Sono Filippo Pietra, responsabile marketing Emek. Emek è un'azienda italiana che opera nel settore del trattamento delle acque da oltre 35 anni. È un'azienda leader a livello internazionale e il core business è la progettazione e la costruzione di strumenti e pompe dosatrici per il dosaggio e il controllo dei prodotti chimici. Il polo produttivo dell'azienda si trova a Rieti, nel cuore dell'Italia. L'azienda ha un carattere globale ed internazionale, abbiamo diverse sedi in giro per il mondo e tocchiamo tutti e cinque i continenti. La nostra collaborazione con la Stipa è cominciata nel 2019 con la fiera di Amsterdam, Aquatec, la fiera più importante nel settore del trattamento delle acque. Abbiamo intrapreso un percorso con la Stipa per organizzare un fitto calendario di eventi fieristici, ma dopo il primo appuntamento ad Amsterdam purtroppo le fiere hanno subito un brusco stop e abbiamo dovuto riprendere tutti i nostri progetti. Il settore preferistico per la Emek è un aspetto fondamentale del nostro lavoro. Quando è cominciata l'emergenza Covid non abbiamo mai pensato di smettere e di fermare questo rapporto diretto con i nostri clienti. Proprio per questo motivo con Stipa abbiamo deciso di trovare subito una soluzione. Nel mese di luglio abbiamo progettato e realizzato uno spazio espositivo all'interno della Emek. Grazie a questo stand, grazie all'ufficio marketing e ad una telecamera, ad una connessione, riusciamo a presentare i nuovi prodotti, riusciamo ad organizzare corsi per il nostro personale tecnico. Questo stand è la nostra identità e rappresenta l'azienda. Si tratta di una vera e propria innovazione nel settore, anche come forma nuova di comunicazione. I clienti sono soddisfatti per la continuità di servizio che abbiamo svolto. In conclusione desidero ringraziare il nostro fornitore Stipa, in particolar modo la nostra account di riferimento, Maddalena Zambelli, per il tempo che ci ha dedicato e soprattutto per la qualità del lavoro svolto. Grazie mille. Grazie mille.